Benvenuti in un nuovo video coltellofili, scusatemi per i pochi video che ormai vengono pubblicati sul canale, ma quando possibile io cerco di portarvi qualcosina di interessante. Oggi parliamo ancora di coltelli, di collezionismo su coltelli artigianali. In particolare vi riporto un coltello di Sandro Mariani, del maestro coltellinaio, classe 1961. Maestro coltellinaio della coltelleria storico tradizionale italiana di Foligno, un grande maestro di cui vi ho portato vari video che potete vedere sul canale, basta andare a scorrere nei video precedenti. Oggi andiamo a vedere il modello Gobbo rivisitato in acciaio inox nitro B, durezza a 57 HRC, una lunghezza totale di 22 cm e l'impugnatura in corno di zebù africano. Andiamo a vedere il coltello che si trova in questa custodia. Eccolo qua. Si vede la manicatura bellissima, con queste striature molto particolari, chiara. E andiamo ad aprirlo ascoltando i tipici scrocchi di questa chiusura. Vado a farmi, come sempre, il zoom. Ecco qua la sua firma, Mariani S. Sandro di Foligno. Guardate, guardate la maestria tutta a mano. Ogni pezzo è goduria per gli occhi. Eccolo qua. Ve lo inquadro tutto. Che dire? Anzi, non c'è proprio niente da dire. Quando si parla di Sandro Mariani, la garanzia di qualità del coltello italiano tradizionale. Ci vediamo in un prossimo video, sempre dal vostro doc. Anzi, non c'è proprio niente da dire il coltello italiano tradizionale.